La mistica nel mondo La mistica nel mondo cristiano al femminile, mistica al femminile. Ora qui in realtà bisognerebbe prima di tutto intenderci sul sostantivo mistica che ha molti significati anche molto diversi l'uno dall'altro e che rischia spesso di portare fuori strada. Ma ora non ho tempo di fare questa discussione perché altrimenti ci fermeremo solo a questa. Datemi la possibilità di usare una definizione, insomma, una connotazione sintetica per poter procedere. Diciamo, appunto, riprendo anche le parole di chi mi ha presentato, diciamo che intendiamo per mistica un rapporto del tutto personale tra, diciamo, tra l'anima e Dio, o tra Dio e l'uomo. Oh, attenzione, quando dico uomo normalmente non intendo dire il maschio, intendo dire l'essere umano, tra l'essere umano, quindi uomini e donne, e il divino. Dove personale non significa che escluda per principio la mediazione ecclesiastica, la chiesa, i sacramenti, eccetera. Però, sinceramente, bisogna dire che la mette in secondo piano. Ecco, la mette in secondo piano. Questo è vero, guardate, credo sempre, o quasi sempre, uomini o donne che siano, insomma, potrei fare un esempio solo, perché purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo, il dottore della chiesa, mistico per eccellenza della chiesa cattolica, è San Giovanni della Croce, un carmelitano spagnolo, come tutti sanno, del 1500. Bene, carmelitano, religioso, eccetera, sempre fedele all'istituzione. Beh, se noi leggiamo le sue straordinarie cose, dubbiamente tra le più belle e profonde che la spiritualità cristiana abbia prodotto, rimaniamo forse sorpresi, in realtà no, che non si parla mai né di chiesa né di sacramenti. In vano cerchereste nell'opera san juanista il riferimento a un qualche cosa che è quello che più direttamente lega appunto al concreto, alla religione nel suo senso positivo. Il che, ripeto, non significa affatto che ci fosse nei confronti di ciò una ostilità, una polemica. Giovanni della Croce è stato fedele, fedelissimo, fedelissimo religioso carmelitano, obbediente in tutto, anche quando, ahimè, subì una persecuzione, vero, ai superiori del suo ordine, alla gerarchia ecclesiastica. Va bene, allora diciamo pure che, però, mistica significa, per noi stasera almeno qui, significa il tentativo, il rapporto che l'essere umano, l'uomo, l'anima, vero, cerca di stabilire con Dio. Ricordate tutti quanti, penso, le celebri frasi di Agostino, di Sant'Agostino, che nel mondo cristiano è un po' come dire il patrono, nel mondo cristiano cattolico latino, nel mondo cristiano, cattolico latino, è un po' come dire il nome tutelare. Cosa conosci? Cosa vuoi conoscere? L'anima è Dio. Niente altro? Niente altro. L'anima è Dio. Beh, femminile non c'è bisogno di spiegarveci. Cosa vuol dire femminile? Beh, in un certo senso tutti lo sappiamo. Anche se è vero, e poi in realtà le varie culture declinano il femminile in vario modo, insomma. Perché se noi accettiamo, e vi prego di accettarla almeno appunto per questi tre quarti d'ora stasera con me, se accettiamo l'antropologia classica e quella del mondo cristiano, almeno per molti secoli, se si pensa all'essere umano come corpo, anima, spirito, l'antropologia classica e quella per esempio di San Paolo e quella di tutti il Medioevo, è un'antropologia ternaria, non è binaria corpo e anima, è ternaria. Corpo, soma o sarx, anima, psiche e pneuma, spirito. Beh, non c'è dubbio che il sesso connota in maniera potente e a volte prepotente il primo di questi termini, no? Corpo. Beh, siamo normalmente maschi o femmine, c'è una distinzione, c'è una divisione, c'è una separazione. Sesso viene dal latino e vuol dire divisione, è il verbo secare, tagliare, dividere. Il mondo rimanda a un dualismo, non so quanto superabile. Quindi sul femminile, per l'aspetto, come dire, corpo, ci siamo, credo che... Però già per l'aspetto psiche, psichè, diciamo anima, o psiche, insomma come preferite, non è la stessa cosa, perché la parola psiche, psichè, l'italiano attuale psiche non ha lo stesso significato dell'italiano o del latino anima del passato. Ma in ogni modo, anche qui, dobbiamo procedere per venire all'argomento specifico di questa sera. Diamolo per scontato. Beh, che psicologicamente l'uomo sia diverso in parte dalla donna, ma beh, anche questo credo che possiamo accettarlo. Però, come dicevo poc'anzi, beh, qui dipende anche dalle culture, dipende dai tempi, dipende dai luoghi. Senza fare riferimenti antropologici alla Polinesia o all'Amazzonia o a che so io, beh, anche se noi restiamo nel nostro paese, in Europa, in Italia, nelle terre, insomma, che sono le nostre. Beh, sappiamo, sappiamo che questa, come dire, psicologia maschile e femminile, che pure, credo, in certi aspetti sia diversa, però poi sfuma. Forse, per esempio, nella mia esperienza personale, che non è secolare, insomma, ma no, che ancora cento anni non ce l'ho, ma insomma, di qualche decennio, beh, già ho visto, abbiamo visto tutti, come, che so io, il ruolo e il modo di atteggiarsi, quindi anche proprio lo psichismo del femminile, sia probabilmente già cambiato abbastanza, no, nel corso di questi decenni nel nostro paese. nel nostro paese, ripeto, senza andare in altri luoghi e in altri tempi dove le cose, indubbiamente, indubbiamente sono macroscopiche, no? Non c'è bisogno di andare a cercare le Amazzoni, ovvero di cui parla Erodoto, eh? Vabbè, da lì, appunto. Ma anche nei nostri giorni, nei nostri tempi, noi sappiamo tutti, appunto, che certe immagini a cui eravamo abituati, insomma, io parlo, ripeto, per la mia esperienza, per la mia vita, insomma, di qualche decennio, sono profondamente mutati. Comunque, anche qui, per andare avanti, accettiamo, accettiamo che vi sia una certa dissomiglianza, una qualche dissomiglianza, accanto, ovviamente, a molte affinità, tra, come dire, il maschile e il femminile. Sì, e di questo, ovviamente, dovremo parlare per quanto riguarda mistica. Però poi viene il termine pneuma, viene il termine spirito. Ora, so bene, questo è uno dei miei, per un certo verso, come dire, cavalli di battaglia, e per un altro verso, cruccio, che la parola spirito è una parola che non ha più quella circolazione, quella pregnanza, e forse neanche viene più compresa nella sua pienezza, come lo era nel passato, più o meno remoto. Ma certamente, certamente, se noi ci rifacciamo, e questo faremo, ovviamente, al mondo cristiano, e al suo impianto fondamentale, noi qui vediamo che, su spirito, questa distinzione, che, ripeto, è netta e, direi, per natura, o perlomeno, insomma, abbastanza radicata, su Soma, cioè nel corpo, che è presente, in diversa misura, anche a livello psichico, e qui però, qui però, no, no, no. Non solo, anche questa, scusate, è una delle mie battute preferite, pneuma è neutro in greco, è top pneuma, non è né maschio né femmina. Grazie.